Nei centri abbiamo Matteo! Allora, questi che sono ben auguranti, ovviamente, per una carriera lunga, duratura... Nell'arlecchino! Sicuramente né l'arlecchino, senza oltredirci, perché sennò te le spezziamo noi le gambette. Ma c'è anche la scarpa di legno? C'è, sicuramente. Ah, c'è qualcuno? Eh, ma qui allora sarebbero tanti, quindi... Allora, invece, poi abbiamo anche il miglior portiere, che non sappiamo chi è. Diciamo che, in teoria, potrei essere io, perché c'è il mio nome. Abbiamo visto qui Roberto, io sono portiere, mi chiamo Roberto, sono io. E invece no, abbiamo il nostro grande Buffon, Robi! Questi sono tutti i tuoi. Per l'augurio di una carriera lunga, duratura, appena iniziata. Una nuova scoperta nell'arlecchino. Sono le ditine, se le spezziamo noi. Ok, allora ragazzi... L'estrazione ora! Ora c'è l'estrazione delle due magliette... ...autografate dai campioni del Livorno più...